è tempo di relax, è tempo di santoria tutto qui sembrava avesse detto un sacco di altre cose tu sei star di cinema? si, in questo momento dovrei recitare brand dei topi, sai? brand dei topi signor Harris, mi manda segno al caso? mie calze, slattare come? slattare mie calze lattare, lattare cosa? e tu che fai? il mio marito è fotografo, è venuto qui per lavoro non avevo niente da fare e l'ho raggiunto di cosa ti occupi? ancora sono indecisa, mi sono laureata la primavera scorsa cosa fa da questa parte? gli faccio pagare 2 milioni di dollari per promuovere un whisky ma la bella notizia è che il whisky funziona aiuto! sai mantenere un segreto? sto organizzando un'evasione dal carcere prima dobbiamo andarcene da questo bar dalla città e infine dal paese ci stai o non ci stai? ci sto ciao ciao probabilmente stai attraversando la crisi di mezza età ti sei già comprata la Porsche? a dire il vero stavo proprio pensando alla Porsche ma è sì è solo che io non so cosa voglio diventare ce la farai di sicuro più conosci te stesso meno ti lasci travolgere la via venti sei decisamente in piena crisi di mezza età a due a due a due o